Settima edizione ieri sera in piazza Walter a Bolzano dell'appuntamento benefico in favore dell'associazione Debra impegnata nel promuovere una meritoria opera di sensibilizzazione e raccolta di fondi per combattere l'epidermolisi bollosa nota anche come sindrome dei bambini farfalla rara e devastante malattia genetica della pelle che causa continue lesioni cutanee infezioni continue dolore perdita di liquidi ed estese cicatrici e che spesso culmina nello sviluppo di tumori cutanei il tutto con effetti devastanti sulla qualità della vita dei malati ci sono 15 persone che ne soffrono piccoli e grandi e infatti come detto prima è una malattia rara della pelle si creano ulcere dolorose su tutto il corpo è una malattia terribilmente invalidante e perciò io con grande piacere con grande onore sono ambasciatrice di questi pazienti e ogni anno cerco di rinnovare questo questo piccolo evento tra vin brulè qualche risata è stata organizzata una lotteria con ricchi premi volti noti e meno noti dell'alto adige hanno voluto dare un segnale solo una delle tante occasioni che ognuno ha a disposizione tutto l'anno per dare una mano a chi soffre tanti dei premi per fortuna e infatti io da in settembre incomincio ad organizzare un po tutto finché si arriva ad oggi e ringrazio tutti quelli che ovviamente mi danno tutto quello che che poi posso dare in lotteria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti